E ci sono nuovi alberi a Parco dei Pini, grazie alla collaborazione con Fareverde e la traducendo Company Limited, una società maltese che da ben tre anni ha scelto di sostenere Campobasso per il progetto Compensazione Carbonica. Simone Cretella ci ha presentato l'iniziativa. Vediamo. Simone Cretella, una giornata in segno di solidarietà e di natura. Sì, questa è la terza edizione che facciamo di questa operazione, la prima e l'unica a Campobasso di Compensazione Carbonica. C'è una piccola azienda che ha sede a Malta che ha scelto proprio Campobasso e la nostra associazione per portare avanti un progetto di compensazione carbonica. Praticamente le emissioni prodotte da questa azienda vengono compensate dalla presenza di alberi, in questo caso a Campobasso. Oggi abbiamo piantato cinque nuovi alberi in quest'area, quella di Parco dei Pini, che Fareverde ha adottato ormai da diversi anni. a completare questo progetto di allestimento di un vero e proprio orto didattico, che speriamo che in futuro possa entrare in sinergia anche con le scuole, sia quelle presenti sia quelle che dovranno essere costruite nella zona. Oggi abbiamo messo a dimora cinque alberi, tutte specie autoctone e comunque ad alto potere di trattenimento di CO2. Nella fattispecie abbiamo messo un platano, abbiamo messo un tasso, abbiamo messo un olmo, un alloro e un ulivo. Quindi tutte specie molto pregiate che vanno ad arricchire la varietà di quest'area. In questo progetto vengono coinvolti soprattutto i migranti. Sì, è un altro progetto che Fareverde sta portando avanti da diversi anni, un progetto che abbiamo chiamato Azione e Integrazione. Serve proprio per coinvolgere i ragazzi, in particolare gli ospiti del CAT Eden, che collaborano con noi in tutte le iniziative di volontariato, anche in maniera molto partecipativa e effettiva. I prossimi programmi? Ci apprestiamo a programmare il mare d'inverno, che è l'iniziativa annuale che Fareverde svolge ormai da oltre 25 anni. Anche quest'anno saremo sulla costa molisana e anche quest'anno sicuramente avremo modo di coinvolgere i ragazzi ospiti migranti. L'anno scorso eravamo in alcune centinaia addirittura, quindi è grossa partecipazione. E quindi l'ultima domenica di gennaio saremo di Roma in spiaggia.